buongiorno a tutti quanti good morning good morning total world un buongiorno e ben visto dal mattino e stamattina vi voglio dire che vi amo con tutto il cuore come dio ama me attraverso il suo figlio lo Gesù Cristo così io amo voi se comprendete quest'amore che vi sto trasferendo attraverso questo video oggi vi rallegrate tutti perché non solo vi sto trasferendo questo video soltanto ma vi sto trasferendo tutte le mie gioie che ho nel mio cuore e sono tutte a portata di mano di tutti voi perché ve li sto trasferendo virtualmente e spiritualmente chi è nelle grazie di dio e comprende queste parole oggi si rallegrerà perché comprenderà ciò che dio vuol fare per lui per lei dal più piccolo al più grande dal più grande al più piccolo con questo vi saluto perché l'orario come vedete la sveglia qui sopra sta per terminare sto andando a lavorare ma finisco questo video e mentre vado a lavorare il lavoro penso a voi perché vi amo con tutto il cuore e voglio fare una piccola preghiera adesso per consolidare questo grande amore che voglio donarvi a voi chiudete gli occhi e se vi è possibile inginocchiatevi non avete vergogna oggi dio farà cose grande per voi padre santo dio d'amore in questo momento sto venendo a te e porto tutti quelli che mi stanno seguendo sia in internet nei video ovunque ci sia un link che trasporta tutto ciò che sto facendo per il tuo popolo stamattina padre ti chiedo nuove unzioni per tutti dal più piccolo al più grande miracoli come pioggia di benedizione per tutto il mondo intero grazie ancora per quello che tu hai fatto nella mia vita e quello che stai facendo nelle mie conoscenze nella mia famiglia mia moglie e miei figli tutti quanti ti prego di benedire sia l'ammalato guariscilo il carcerato liberalo signore fagli fare un dietro front au che possa ritornare a comprendere dove ha sbagliato e chiedere perdono principalmente a te e poi alla giustizia benedice ancora la vedova la divorziata e il divorziato chi in questo momento non ha possibilità di avvicinarsi a te signore donagli una chance signore che possa avvicinarsi a te grazie padre se dimentico qualcuno padre so e comprendo che tu non dimenticherai nessuno e farai miracolo oggi grazie padre tutto questo come un bacchetto di profumo suave lo spedisco a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo ecco è arrivato alla tua presenza padre grazie ti ringrazio ti lodo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno amen amen mia cari vi saluto vi abbraccio virtualmente perché sto tenendo il telefonino ma quattro baci ve li do per ognuno uno due tre quattro Dio ci benedica amen grazie a tutti